Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Pochi giorni prima del suo attesissimo ritorno in tv come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, Barbara D'Urso ha sorpreso i suoi follower con un annuncio davvero sorprendente. La celebre conduttrice si sta infatti preparando a diventare nonna per la seconda volta. Insieme a sua nuora, questa mattina ha condiviso una simpatica storia per rivelare la splendida novità ai fan. Ebbene sì, un'altra bambina sta per entrare nella vita della famiglia D'Urso. Giulia, la moglie del figlio di Barbara, Gianmarco Berardi, aspetta il secondo figlio. Dopo la piccola Matilde, nata nel 2022, presto una nuova arrivata farà compagnia alla sorellina maggiore. La conduttrice era già stata travolta dalla felicità con l'arrivo della sua prima nipotina, e da quel momento ha iniziato a condividere con i suoi tantissimi follower momenti speciali della sua vita da nonna. Fotografie e video della piccola Matilde hanno spesso fatto capolino sul profilo Instagram della D'Urso, mostrando scene di dolcezza e quotidianità. L'entusiasmo di Barbara nell'apprendere che sta per diventare nonna di nuovo sarà stato sicuramente incontenibile. Nella storia pubblicata sui social, si vede chiaramente la nuora Giulia indossare un abito viola che mette in risalto il pancione, mentre le due si preparano per una sessione di shopping nelle vie di Roma. Ad un certo punto, Barbara le chiede, dove stiamo andando? Giulia, con grande spontaneità risponde, a fare shopping per le bimbe. La conduttrice, visibilmente sorpresa da questa improvvisa rivelazione, esclama, ah, lo dici così? Giulia con un sorriso replica, ormai non si può più nascondere. È stato in quel momento che Barbara ha inquadrato tutta la figura della nuora, svelando ufficialmente il pancione. Un augurio speciale a Barbara D'Urso e ai futuri genitori, che si preparano ad accogliere il nuovo arrivo. Sabato segnerà un momento importante per Barbara D'Urso, che tornerà in televisione come ospite di Millie Carlucci a Ballando con le stelle. Dopo il suo allontanamento da Mediaset e un periodo lontana dalle telecamere, la conduttrice è pronta a tornare sul piccolo schermo in grande stile, stavolta su una rete diversa. I rumors riguardo alla sua partecipazione nel celebre show di danza erano già numerosi, ma la conferma è arrivata direttamente da Millie Carlucci durante una recente conferenza stampa. La Carlucci ha spiegato di aver riflettuto a lungo sulla scelta di Barbara come ballerina per una notte, sottolineando il suo carisma e il rispetto che merita da parte del pubblico. Ogni tipo di pubblico va rispettato, ha detto Millie, e non è giusto fare distinzioni tra chi piace o non piace. Come sempre, vogliamo portare in scena la bellezza della diversità. Che ne pensate di questa bellissima notizia? Siete felici per Barbara? A voi i commenti! Grazie Grazie